Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilì un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sulla A11 l'area di servizio di Serravalle Sud in direzione Firenze. È sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla A12 per lavori possibili disagi tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Su raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.